Per il commissario dell'ASPE di Agrigento Mario Zappia, togliere la mascherina all'interno di ospedali ed RSA è un'imprudenza esagerata. Lo ha dichiarato nel consueto punto settimanale sulla situazione epidemiologica in provincia di Agrigento, in riferimento al fatto che a fine mese scade l'obbligo imposto dall'ex ministro Speranza e alla volontà manifestata dal nuovo governo nazionale di voler eliminare tutte le restrizioni in vigore in questi anni. Sulla questione il commissario dell'ASPE si è espresso in termini di grave imprudenza considerata l'esigenza di continuare a tutelare soprattutto le persone più fragili e quindi degenti e anziani. In relazione alla situazione epidemiologica in Sicilia e anche nel territorio agrigentino si registra in controtendenza al dato nazionale un incremento di nuove infezioni. Il 20-25% dei tamponi effettuati dà esito positivo ma questi sono solo i dati ufficiali. Altalenanti i dati dei ricoveri in provincia di Agrigento attualmente sono 11 posti letto occupati in degenza ordinaria e uno in terapia intensiva all'ospedale di Ribera ma assolutamente sotto controllo. Scende rispetto alle scorse settimane il numero delle vaccinazioni effettuate sono 700 negli ultimi sette giorni in tutti i centri vaccinali della provincia. Il commissario Zattiesi è poi soffermato sui lavori che stanno interessando gli ospedali. Al Giovanni Paolo II riguardano la manutenzione degli ascensori che successivamente sarà estesa al San Giovanni di Dio di Agrigento. Ha annunciato infine un'iniziativa che si svolgerà l'8 e 9 novembre prossimi e che è finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti, soprattutto quelli domestici.